Sono nato due volte, anzi tre. Bambino la prima. Un giorno stranamente caldo di gennaio, a Roma. Pochi anni più tardi sono nata di nuovo, questa volta bambina. E mia madre mi mise nome Arianna. La terza volta sono nata io. L'estate in cui mio padre riprese la casa sul lago, dove ero cresciuto. Ma per questo ci sono voluti vent'anni. Oggi ho qualche curiosità per i fan di Tarantino sul suo ultimo film, The Hateful Eight, che finalmente arriverà presto nelle sale italiane, distribuito da 01 Distribution. La storia si svolgerà nello stesso mondo di Django Unchained, ma non sarà il suo sequel. Il film sarà la sesta collaborazione tra Tarantino e Samuel L. Jackson, che ha fatto un cameo in Kill Bill 2 ed era la voce narrante in Bastardi Senza Gloria. Tutti gli attori principali del cast, Channing Tatum, Samuel L. Jackson, Tim Roth e Kurt Russell, hanno partecipato tutti in un film di supereroi. Sarà un caso? Abbiamo visto Channing Tatum in Jupiter, il destino dell'universo e presto interpreterà Gambit nel nuovo X-Men Apocalypse, Samuel L. Jackson e Nick Fury nei film Marvel, Tim Roth interpreta il villain in L'incredibile Hulk e Kurt Russell è il commander in Sky High, scuola di superpoteri. Restiamo in attesa dell'uscita del film e noi ci vediamo presto con nuove news. Grazie per averci seguito, ciao!